Due incendi impegnativi da domare con decine di famiglie coinvolte e in un caso molte persone costrette a ricorrere alle cure ospedaliere per un principio di intossicazione. Verona e Trento sono state accomunate da due roghe a distanza di pochissimo tempo nelle prime ore della giornata di sabato. Nella città Scaligera più di dieci famiglie sono state evacuate dopo che le fiamme hanno avvolto una palazzina in via Poloni nel pieno centro di Verona. Venti persone fra cui un bambino sono state trasportate negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Le fiamme secondo i primi accertamenti si sono innescate verso le quattro in un appartamento a piano terra abitato da una settantenne che è riuscita a uscire prima che la sua casa venisse inviasa dal fumo. In seguito l'intero stabile è stato evacuato e tutte le strade limitrofe sono state chiuse per ragioni precauzionali. La polizia municipale ha dato assistenza agli sfollati, molti dei quali sono stati portati fuori con l'autoscala prima di essere accompagnati in ospedale. Insieme a vigili del fuoco, carabinieri e polizia hanno operato i tecnici di AGSM, la municipalizzata cittadina. A Trento invece qualche ora prima un altro incendio ha sostanzialmente distrutto l'ultimo piano di un condominio di via Maccani che tempo fa ospitava la sede di un noto discount alimentare. Dieci famiglie sono state evacuate dall'edificio ma in questo caso, a differenza di Verona, non si registrano feriti. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme causate probabilmente da un cortocircuito. Sono intervenuti 50 vigili del corpo permanente di Trento e anche volontari di due vicine sezioni periferiche.